Ma lo sai che in soli tre anni, gli pneumatici perdono circa il 40% dell'aderenza originaria al momento della fabbricazione? Sì, hai capito bene, dal momento della fabbricazione, non quando hai cominciato a utilizzarli. Per questo motivo su ogni pneumatico, sono riportate quattro cifre che indicano la settimana e l'anno di produzione. In particolare, le nuove mescole, che contengono poco caociu e tanto materiale di riciclo, invecchiano ancora più rapidamente di quelle di una volta. Black Traction è una miscela liquida che arricchisce e migliora la mescola per assorbimento, per migliorare e ottimizzare le caratteristiche della gomma e reintegrare i componenti persi con l'invecchiamento e l'ossidazione. Per rinnovare l'aderenza persa con l'invecchiamento e l'ossidazione dalle gomme vecchie, ma anche per aumentare l'aderenza delle gomme nuove. Un miglioramento Una differenza documentata e dimostrata con la riduzione dello spazio di frenata necessario per fermare auto e moto, sia su asfalto asciutto che bagnato, con gomme vecchie o nuove, estive o invernali. Con prove e test comparative di frenata, prima con gomme normali e poi con le stesse gomme con un applicato Black Traction, che ha una velocità di 70 km orari, equivale a circa 4,5 metri di spazio in meno per fermare auto e moto. E misurato anche con sofisticati e precisi strumenti di misura, come accelerometri, durante la collaborazione con gli studenti dell'Università di Modena e con la telemetria nelle competizioni. Black Traction e ATT si differenziano da tutti i prodotti concorrenti per la lunga durata d'effetto, che può essere rinnovato, ma soprattutto perché, quando l'effetto termina, lo stato della gomma non è peggiore rispetto a prima dell'applicazione di Black Traction. Non contengono corrosivi e non rovinano la carcassa, cioè la struttura portante del pneumatico. Quando l'effetto termina, si può rinnovare continuamente applicazione ed effetto per tutto il tempo del loro utilizzo, che può essere di anni. Così, invece di cambiarli solo perché sono vecchi e duri, ma con un buon battistrada usufruibile, li cambierai quando saranno consumati. L'applicazione di Black Traction e ATT, nelle gomme stradali, estive e termiche, nei periodi invernali, consente alla gomma, di raggiungere più velocemente, la temperatura di esercizio ottimale, per avere il massimo dell'aderenza possibile. E l'effetto antiossidante, contrasta gli shock termici e l'invecchiamento. L'applicazione di Black Traction ti permette di mantenere costante l'aderenza degli pneumatici, permettendoti di sfruttarli sempre in piena efficienza, così, invece di cambiarli solo perché sono vecchi e duri, li cambierai quando saranno consumati, e non perché in buono stato, ma vecchi. Con un notevole risparmio. Il prodotto ha una resa variabile tra i 15 e 18 metri quadri di superficie piana per litro, variabile, conseguentemente al tipo, e allo stato di invecchiamento della mescola. E' conservato ben chiuso, anche dopo l'utilizzo, non ha scadenza. L'applicazione su gomme racing, permette, di migliorare le prestazioni e contrastare, il decadimento delle prestazioni, derivato dagli shock termici, che accelerano, l'invecchiamento e il decadimento di prestazioni della gomma. Black Traction è un prodotto multifunzione, perché può essere utilizzato anche per rinnovare e mantenere l'elasticità e le caratteristiche di tenuta perdute dalle guarnizioni con rivecchiamento. Black Traction è un prodotto italiano, dalle caratteristiche uniche e brevettate, che non puoi trovare in nessun altro prodotto concorrente. Nato e per voluto in circa 40 anni di collaborazioni nelle competizioni di auto e moto, come tutte le tecnologie applicate ad auto e moto moderne. Finalmente a tua disposizione, per migliorare il controllo e la tua sicurezza stradale. Puoi ordinare Black Traction e riceverlo comodamente a casa, ma non lo trovi su piattaforme come Amazon. Black Traction è un prodotto italiano, ma non lo trovi su piattaforme, ma non lo trovi su piattaforme, ma non lo trovi su piattaforme, ma non lo trovi su piattaforme. Grazie a tutti!